La domenica di campionato nel girone F di Serie D vede la copertina di giornata tutta per l'Avezzano, capace di vincere ad Agnone, sesto successo in esterna, di prendersi il terzo posto e di fare un bel regalo anche alla Virtus San Nicolò, diretta concorrente dell'Agnonese che nell'anticipo di sabato aveva subito un brutto K.O. in casa contro il Campobasso. I biancoverdi hanno scavalcato la vastese, oramai in caduta libera, alla sesta sconfitta nel girone di ritorno, quarta consecutiva, e che non riesce davvero a rimettersi in carreggiata. Gli uomini di Colavitto sono scivolati al quinto posto, superati anche dal Castelfidardo, giustiziere dell'Aquila. I rosso-blu, scialbi e poco incisivi sono al sesto K.O. in trasferta e hanno messo una distanza di tre punti dalla zona playoff. Brutto tonfo anche per il Francavilla, che senza Fofanà, squalificato per due mesi, deve arrendersi al Valle Anzuc al cospetto di una re canatese in grande spolvero, rivoluzionata dopo il mercato invernale e dunque diventato un brutto cliente per il San Nicolò finito nel merino dei marchigiani in classifica. Proprio la sconfitta contro il Campobasso ha complicato abbastanza il piano salvezza dei Terramani, interrompendo anche una striscia positiva di risultati. Era una gara da vincere, sarebbero stati punti preziosi alla luce dei risultati maturati sugli altri campi. I ragazzi di Montani non hanno comunque latitato a livello di gioco e neanche a livello di grinta e carattere. La cura del nuovo tecnico si fa sentire e la compagine bianca-azzurra potrà dimostrarlo già domenica prossima contro la Jesina, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto al Carotti. I biancorossi, affondati in rimonta a Pesaro per 2-1 e che in casa hanno un andamento altanellante, saranno comunque con il dente avvelenato. Chiudono la giornata il Pineto che in inferiorità numerica contro la Sangiustese per buona parte della gara riesce a strappare un punto prezioso ai fini della classifica e i nerostellati che cedono nettamente al Barbati di Pescina contro la capolista Matelica, restando sempre più ultimi e soli in coda alla classifica. Le speranze di salvezza ormai si assottigliano sempre di più domenica per domenica.